Sono Truce Baldazzi, malato mentale, voglio dire una cosa soprattutto a voi, ai miei fans. Io quello che sto pensando, il modo per socializzare, il modo per riuscire a superare questi ostacoli di chiusura che c'è stato nella pandemia del Covid, soprattutto anche di ansia e depressione, diciamo, superare, tornare indietro, agli anni indietro, quando non c'era Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, quelle schifezze dei social network che hanno creato il bullismo, soprattutto l'isolamento sociale, è l'unico modo per riuscire a trovare il modo per uscire dal guscio e superare le proprie problematiche. Io penso che Facebook, Instagram e roba varia come Telegram non servono proprio a niente. Stare lì dentro, socializzare virtualmente, bisogna fare una cosa realmente. Io penso che proprio questi social network come Facebook, roba così, non è un posto di socializzare, è più che altro un bullismo e isolamento sociale. L'unica soluzione, ovviamente, è chiaro che è difficile uscirne da questa dipendenza. Io ho vissuto tanto questi personaggi virtuali e anche gente virtuale che faceva bullismo su di me e io l'unico modo per riuscire a uscirne, già che mi hanno hackerato i profili di Facebook e Instagram e via dicendo, a Twitter e anche Telegram, ovviamente, penso. Io sono uscito vivo perché, ovviamente, caro, che io stando con delle persone virtuali che non ci mettevano la faccia, sono dei vigliacchi. E io ho pensato esordamente di interagire, e sto facendo tutto il modo per interagire, con le persone reali.